Sono ci sotto la Cartofer, ho tornato e sono qua, la macchina mi venga a prendere da scamazzi i documenti, tu runga veramente. Ma Cartofer è anche servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi. Papà! Che che? Ha detto mamma, le devi dare mille euro. Ma chi ti ha mai la casa? Papà scamazzi, pure a mamma, i documenti, non giuro. E perché? E perché? E perché io sono un cuoco a fuoco? Perché sono cicciotto a Cartofer? Cicciotto Cartofer, autodemolizione centro ecologico, Arzano, Napoli. E perché? 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 E perché?